ciao a tutti la ricetta di oggi è una fantastica insalata di patate e avocado sana vegetariana anzi vegana gustosa ma come sempre dietetica vi do gli ingredienti per due persone un avocado maturo 500 grammi di patate dell'erba cipollina dell'olio extravergine di oliva un pomodoro anche lui maturo una dozzina di olive nere un cetriolino sott'aceto io utilizzo un gorkien quelli in agrodolce un paio di cucchiaini di capri sott'aceto mi raccomando delle cipolline sott'aceto a piacere dell'aceto di vino del pepe e mezzo cucchiaino di senape e infine ma non per ultimo lui il nostro ingrediente segreto procediamo ma prima vi ricordo che la lista completa degli ingredienti e qui sotto nella descrizione e vi invito a visitare il mio canale youtube e ad iscrivervi è gratis così non vi perderete neanche una ricetta al lavoro lessiamo le patate tagliamo a dadini il pomodoro lo stesso faremo con l'avocado affettiamo le olive il cetriolino taglieremo in due o quattro parti anche le cipolline mettiamo le patate e lessate in un contenitore profondo meglio se con coperchio e un consiglio pelatele da calde ma tagliatele solo da fredde così non si spappoleranno e aggiungiamo tutti gli ingredienti il cetriolino i capperi le cipolline i pomodori tagliati l'erba cipollina le olive tagliate e l'avocado aggiungiamo l'olio extravergine di oliva se vi piace il pepe l'aceto la senape e infine lui il nostro ingrediente segreto gli diamo una bella mescolata lo copriamo e lo mettiamo in frigo a riposare almeno una mezz'oretta poi serviamo ed ecco impiattato il nostro fantastico primo piatto ebbene sì è un primo piatto non è un contorno le patate sono dei carboidrati e a questo punto vi svelerò l'ingrediente segreto è dell'aneto che darà un gusto particolare alla nostra insalata di patate buon appetito e mi raccomando condividete la ricetta con chi ha bisogno di perdere peso ma non vuole fare troppa fatica ciao al prossimo video